Cascata di criticità. Dubbi non risolti, ma sepolti in un processo che è tutto da rifare. Nuove prove e nuove metodologie scientifiche. Nuovi testimoni. Durante la lunga ringa dei quattro difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba, sono emerse frasi ripetute più volte. Dopo 17 anni dalla condanna definitiva, la Corte d'Appello di Brescia sta discutendo la richiesta di revisione del processo, con la possibilità di un nuovo giudizio, che potrebbe portare all'assoluzione di Rosa e Olindo, rendendoli quindi liberi. In tre gradi di giudizio, i magistrati hanno stabilito che la coppia era responsabile dell'omicidio di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef di due anni, della nonna Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. Inoltre hanno gravemente ferito Mario Frigerio, marito di Raffaella. I due vicini, intervenuti dopo aver udito le grida di Raffaella, hanno pagato un prezzo elevato per il loro gesto di altruismo. Nico Dascola, Fabio Schembri, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux hanno tenuto la loro difesa dalla mattina fino alle 19, quando la Corte ha deciso di rinviare la Camera di Consiglio al 10 luglio prossimo. Il presidente Antonio Minervini ha illustrato la decisione della Corte. C'è tanta carne al fuoco. Se la Corte d'Appello non dovesse accogliere nessuna prova, ciò segnerà la conclusione del processo di revisione, con Olindo Romano e Rosa Bazzi, destinati a rimanere in carcere a scontare l'ergastolo. L'accettazione di anche una sola prova garantirebbe il proseguimento del procedimento. Al centro della lunga discussione si è trovata soprattutto la testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto e testimone unico della strage. Le sue parole, sempre costanti, precise e ripetute innumerevoli volte, hanno condotto per tre volte Rosa e Olindo Romano a essere condannati all'ergastolo. È stato Frigerio, scomparso nel 2014 e quindi incapace di ribattere, a identificare Rosa e Olindo come colpevoli. In aula, puntando il dito, egli indicò «sono quei due delinquenti lì». Secondo Nico Dascola, uno dei legali del team difensivo, la testimonianza di Mario Frigerio sarebbe stata compromessa da un caso di amnesia anterograda, una condizione che causa la perdita di memoria a seguito di un forte stress o di un trauma significativo. Ecco le parole del legale. Frigerio ha eseguito un riconoscimento di Olindo solo nella quarta occasione, quando gli effetti di un'amnesia tardiva si sono verificati. Le dichiarazioni con le quali riconosce Olindo sono prive di contenuti. Il meccanismo che l'amnesia anterograda produce cancella i ricordi. Nelle fasi iniziali chi ne è affetto ricorda perfettamente, a distanza di 15 giorni non ricorda nulla. Nessun medico né neurologo certificò questa particolare patologia all'epoca, ma secondo la difesa dei due ergastolani, ora è stata provata grazie ai neuroscienziati dell'Università di Padova, che hanno collaborato con i loro studenti. Sull'amnesia che avrebbe colpito Frigerio è intervenuto anche l'avvocato Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano. L'amnesia anterograda di Frigerio è un dato certo. I PM, quando il 26 dicembre vanno da lui, partono dal presupposto che il nome l'abbia già fatto e fanno per ben sette volte involontariamente domande suggestive. La prova nuova ci dimostra che anche in quella occasione, siccome il suo deficit cognitivo aveva raggiunto il suo apice, non fece il nome di Olindo, ma si adagiò ai nomi fatti dai magistrati per poi dire, non ricordo niente, io onestamente non l'ho riconosciuto. Fabio Schembri ha anche menzionato l'audio del 15 dicembre. Nell'audio si sentirebbe Frigerio menzionare due volte il nome di Olindo. Tuttavia, secondo l'avvocato, non è incluso negli atti ufficiali, è stato trasmesso solo in televisione. La difesa della coppia si è quindi concentrata sulla dinamica della strage, sostenendo che sarebbe stata incompatibile con la presenza della coppia, poiché i due sarebbero stati avvistati dai primi soccorritori, due vicini di casa intervenuti sul pianerottolo angusto di casa Castagna. Fabio Schembri ha ulteriormente chiarito, è impossibile che non li abbiano visti uscendo e anche con i tempi non ci siamo, è impossibile che nessuno nella corte piena li abbia visti, abbiamo un'impossibilità oggettiva. I legali hanno chiarito che le nuove prove, derivanti da varie consulenze, incluso il contributo della criminologa Roberta Bruzzone sulle macchie di sangue rimvenute, dimostrano anche che la vicina di casa Valeria Chirubini fu uccisa nel suo appartamento. Le sentenze affermano che fu colpita mortalmente al piano di sotto, nell'abitazione dei Castagna, e poi si spense nel proprio appartamento. Schembri ha sottolineato che a causa dei colpi ricevuti alla testa e alla gola, la donna non avrebbe potuto gridare aiuto, come testimoniarono i primi soccorritori, né avrebbe potuto salire le scale per raggiungere il suo appartamento. Ecco le parole precise. Con otto colpi al cranio, con la gola e la lingua sfondate, e con altre lesioni ancora, avrebbe fatto sedici scale per raggiungere la mansarda e morire, gridando aiuto ma senza sangue nei polmoni? È impossibile, e lo dimostreremo grazie anche alla consulenza di un neurologo di fama internazionale. La nuova prova dimostra che l'assassino o gli assassini erano ancora in casa perché la sentirono gridare. La prova nuova attesta che venne colpita in casa, e questo è un aspetto che oggi potrebbe diventare dirimente. Quindi è stata discussa la questione della traccia di sangue di Valeria Cherubini rilevata sul battitacco della seata rosa della coppia, considerata una prova cruciale nei processi. Gli esperti che l'hanno esaminata hanno sempre sostenuto che si trattava di una traccia di alta qualità, essendo stata prelevata da una zona vicina al sangue puro. Patrizia Morello, del team difensivo, ha sostenuto il contrario, affermando che quella traccia sarebbe degradata e quindi priva di valore probatorio. Ha sottolineato come i consulenti della difesa abbiano impiegato nuove metodologie scientifiche per dimostrarlo. Quali? Ha precisato il collega Nico Dascola. È una prova inesistente, perché non fu analizzata con Illuminol. Per noi si tratta non solo di una prova sospetta, ma mai acquisita. In merito a ciò, ha criticato l'approccio ingenuo della polizia giudiziaria dell'epoca e ha contestato il metodo investigativo, in particolare il pressappochismo dei carabinieri. Si è anche discusso delle confessioni fatte da Rosa e Olindo, in cui ammettevano le proprie responsabilità nella strage. Secondo la difesa, tali confessioni sono state estorte, poiché i due non erano mentalmente in grado di sostenere un interrogatorio. Questo solleva una domanda naturale. Cosa avrebbe reso le loro parole non veritiere? Sono stati presentati pareri di diversi consulenti come allegati all'istanza di revisione. Ha quindi spiegato l'avvocato Fabio Schembri. Ci sono 243 errori nelle confessioni. Ha sottolineato che tali confessioni dovrebbero essere considerate un atto di generosità compiuto da entrambi, Olindo per salvare Rosa e Rosa per salvare Olindo, a cui sarebbero giunti dopo le pressioni subite durante gli interrogatori in carcere. Ha richiamato alla memoria il momento in cui Olindo disse «confesso perché ci lasciate insieme, non mi frega cosa succede, io chiedo di stare con mia moglie se non niente». Il legale ha chiarito che per i due imputati la confessione era il male minore per ottenere quella cella matrimoniale che rappresentava l'unica cosa che desideravano. Schembri ha enfatizzato che nonostante la descrizione nel verdetto di primo grado li ritrasse come «intelligenti, astuti, capaci di costruire un alibi complesso», in realtà non conoscono il luminol o le intercettazioni. Rosa non sa distinguere la destra dalla sinistra, non sa leggere. Olindo non è a conoscenza che l'ergastolo non si assegna in cinque minuti, né che la pena non è divisibile e non esistono camere doppie in carcere. Ha poi aggiunto che il procuratore generale nega l'esistenza di pressioni, ma ammette che ci sono state. Luisa Bordeaux, avvocato di Rosa Bazzi, ha evidenziato che tra le nuove prove ci sono consulenze scientifiche che hanno esaminato il suo stato mentale con nuove metodologie, dimostrando che la confessione è stata estorta. Rosa non riesce ad esprimersi verbalmente, si adatta alle dichiarazioni che sente, da sola non sa nemmeno come prendere un autobus. Va notato che il tema delle pressioni per ottenere le confessioni dei due imputati è già stato affrontato nei processi e dai giudici che li hanno condannati. I magistrati hanno considerato quelle confessioni spontanee e coerenti. Inoltre hanno documentato che sono state riconfermate per scelta difensiva e che ciò che Olindo ha confessato è identico a ciò che aveva scritto sulla Bibbia fornita come prova dall'accusa. Per concludere, entrambi gli imputati rivelarono dettagli che solo chi era stato presente sulla scena del delitto avrebbe potuto conoscere. Patrizia Morelli ha evidenziato la confessione fatta da Rosa Bazzi riguardo all'omicidio del piccolo Youssef, che all'epoca aveva soli due anni. Le macchie di sangue del povero bambino non sono compatibili con la dinamica raccontata da Rosa Bazzi. Infine, la difesa ha ribadito la richiesta di ascoltare il tunisino Abdi Qais che condivideva la cella con Azuz Marzouk per reati legati alla droga e che aveva raccontato dei contrasti tra Marzouk, suo fratello e altre bande di spacciatori. Questo solleva la possibilità e se gli autori della strage fossero stati proprio degli spacciatori. I due magistrati, che rappresentano l'accusa, il procuratore generale Guido Rispoli e l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro, hanno manifestato più volte disagio e insofferenza verso le argomentazioni dei quattro difensori, arrivando quasi allo scontro.